Se il vecchio Steve fosse stato sempre presente, ma noi non ce ne saremmo mai accorti. In questo video vedremo una stranissima teoria sul passato dell'MCU. Ovviamente, come sempre, è una teoria, quindi siete liberi di non crederci o appunto di crederci. Ma prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like a questo video per supportare il mio canale, commentare e condividere con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Iniziamo pure! Sigla! Questa è una teoria che è comparsa su Reddit, niente di certificato. Questa teoria spiega come il vecchio Steve sia stato sempre presente. In ogni minimo film il personaggio è comparso. Infatti, ci viene detto che, prima della scomparsa di Stan Lee, si sarebbe dovuto scoprire che appunto quest'ultimo fosse la versione anziana di Capitan America e che appunto compare in ogni singolo film con i suoi cameo. Quindi, tutte le volte che vediamo Stan Lee in un film Marvel, stiamo vedendo il vecchio Steve. Secondo questa teoria, il finale di Avengers Endgame è stato cambiato perché appunto, a novembre, è venuto a mancare Stan Lee, che appunto si rivelava essere il vecchio Steve. Se questa teoria è vera, spiega un sacco di cose. Appunto, in molti cameo, non sembra stupito di quello che succede. Un esempio che vi faccio è quello in Infinity War, quando appunto non si stupisce alla visione di una navicella spaziale. Ragazzi, ovviamente questa è una stranissima teoria e non ha molte basi fisse. Infatti, in questo video non parlerò solo della teoria, ma vi dirò anche perché non credere a questa teoria. Se ricordate bene, i cameo di Stan Lee sono ambientati in diversi posti, anche fuori dalla Terra, e in diverse epoche, come per esempio il cameo in Captain Marvel. Oppure i due cameo in Guardiani della Galassia Vol. 1 e Guardiani della Galassia Vol. 2, dove appunto non si trova sulla Terra. Ehi ragazzi, aspettate, dove andate? Avevate detto che mi accompagnavate a casa. Oppure in Thor Ragnarok, dove è un alieno barbiere. Altrimenti proverai la collera del potente Thor! Poi non lo so ragazzi, magari il vecchio Steve sa come tornare avanti e indietro nel tempo oppure guidare una navicella e quindi uscire fuori dall'orbita terrestre. Fatemi sapere con un commento se credete a questa stranissima teoria. Perché questo piccolo video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate entrambi i miei due profili giù in descrizione, assieme al link per partecipare al contest per vincere un DVD o un Blu-ray, e ad altri video che vi potrebbero interessare, tra cui alcuni della Marvel. Rispondete al sondaggio che sta comparendo ora nelle schede qui a destra. E niente, io sono il pensiero di Andri. Questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vedremo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao! 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 Ciao!